L'opinionista di uomini e donne Tina Cipollari ha perso letteralmente le staffe su Instagram ha sbottato minacciando tutti di denuncia. La sua immagine, proprio come già accaduto a Maria De Filippi, è stata utilizzata in modo improprio per truffare la gente. Complice il fatto che la Cipollari nei mesi scorsi si era messa a dieta per tornare in forma, i truffatori hanno preso la sua immagine e l'hanno usata per pubblicizzare un sito internet che venderebbe pillole dimagranti miracolose. Di tutte queste magiche pozioni Tina non sa assolutamente nulla e non ha mai dato il proprio consenso per prestare il proprio volto alla campagna pubblicitaria di questa azienda online. Adiratissima ha voluto denunciare l'accaduto sui social network in modo che più persone possibili possano essere informate della truffa e non incapparci. Questa è una notizia falsa se sfogata in una Instagram Stories. Hanno usato la mia immagine e non so di cosa si tratta ma saranno denunciati. Ha garantito Tina che poi ha invitato i suoi fan a informare chiunque che si tratta di una truffa. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.